La finanza di Reggio avverte, non fate i furbetti. 36 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria perché truccavano il modellino ISEE sul reddito. I loro figli usufruivano così gratuitamente del servizio scuola bus e mensa. Lo hanno comunicato le stesse fiamme gialle con una nota che, oltre a comunicare la notizia, avverte i cittadini in caso di falsificazioni fanno presente i militari, oltre all'obbligo di rimborsare la quota non pagata, il rischio è quello di essere incriminati per falsa dichiarazione con la contestuale decadenza dei benefici. Figli aggiunti allo stato di famiglia, redditi non dichiarati, età che fluttuano per ottenere un trattamento più favorevole, sparizioni di case e immobili dal patrimonio. C'è di tutto nelle autocertificazioni falsificate dai 36 furbetti reggini sicuri di eludere le tasse sfruttando gli scarsi controlli. Questa volta però gli uomini delle fiamme gialle hanno coinvolto IMSS e anagrafe per contrastare un fenomeno, quello della microevasione, che ha un costo sociale elevatissimo. Francesco Creazzo per la Cineus 24 Cineus 24